Siamo anche a sfruttare il gioco di prestigio Tira divina Guardalo, uno è dentro il contenitore rosso, quello in mezzo alla mappa A me è un nemico Stavo un attimo Stavo un attimo dove eravamo noi Non scherzo Stavo un attimo 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 Basta No, ora questo Questo è tutto qui lo fa La regione No, non ho avuto Un video Non ho preso delle luci C'è già Sto sbloccato, ancora No Oh, oh, oh Sto sbloccato Sto sbloccato Sto sbloccato Sto sbloccato Sto sbloccato Sto sbloccato No, 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 questo mi ha colpito Posta, no trovo via No, no Pallo, questo è sordente, oh Mamma mia, che casino Ciao Ice Ice ricco Bella, bella, scusate se non ti ho salutato prima Ma ero molto indaffarato Ah, qua, che culo Beh, almeno qua hanno fatto 65 di kill Oh, vedi, almeno qua Almeno qua